Buon fine settimana a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Vediamo in questo videocorso come creare dei giochi didattici interattivi con WorldWall, sito di riferimento worldwall.net, nulla da installare anche in questo caso. Allora, WorldWall è una risorsa cosiddetta freemium. Se io clicco su prezzi e piani di iscrizione, e chi di voi ha visto i precedenti videocorsi sa cosa intenda io dire con freemium, potrà appunto vedere che c'è un piano gratuito, free, che ci permette di creare fino a 5 risorse anche riutilizzabili, e poi degli altri piani, cosiddetti premium, ecco l'unione freemium, dove con un minimo di 3 euro al mese il numero di risorse che posso creare diventa illimitato. Come sempre a noi, la libera scelta è valutazione, tenuto conto che in effetti WorldWall è una risorsa davvero molto trasversale. Prima iscrizione con un clic su iscriviti, secondo accesso, quindi dal secondo accesso in avanti un clic su accedi. La procedura è sempre la consueta, quella che abbiamo già visto con altre risorse, cioè il fornire un account Gmail personale o Google Suite scolastico. Io vado a cliccare su sign in with Google, vedete che mi chiede di inserire gli indirizzi, indirizzo di posta elettronica da me desiderato. Io metto uno dei miei account Google Suite scolastici, e poi vado ad indicare la relativa password. Saremo nel cruscotto di WorldWall. Questo è solo un riepilogo. In realtà la nostra partenza è crea un'attività clic tasto azzurro. Numerosi i giochi proposti, guardate, quiz, colpisci la talpa, trova la soluzione, ma io vi segnalo abbinamenti. Allora, come funziona abbinamenti? Un minimo di tre abbinamenti, una riga divisa in due colonne da questa linea sottile, a sinistra l'immagine è un argomento, a destra l'abbinamento corretto che dovranno fare gli alunni. La mia attività la vado a nominare quiz su internet, ma avrei potuto anche denominarla come giochiamo con internet e così via. Immagino un piccolo gioco per la primaria e la secondaria di primo grado con i termini, quelli veramente più comuni riguardanti la tecnologia. Allora, io clicco su questo quadratino perché vi mostro che WorldWall ha anche il motore di ricerca interno per immagini, per cui io digito Google, poi clicco sulla mia tendina e scelgo ad esempio piccolo, le immagini piccole relative a Google, clicco sul simbolo da me desiderato e digito in lettere di che si tratta Google, poi clicco a destra per avere il cursore e spiego di che cosa si tratta. È un motore di ricerca. Clicco dunque sul più. Lo ripeto, un minimo di tre abbinamenti ed abbiamo anche un massimo che è di 30, ma insomma 30 è già un numero considerevole. Seconda voce, clicco sul quadratino, digito Firefox, quindi Firefox. Clicco sulla mia tendina e scelgo piccolo. Prendo con un clic l'immagine da me desiderata, clicco e digito per bene il nome e il cognome del servizio, per cui Mozilla Firefox, ed ecco qui che poi clicco a destra e scelgo l'abbinamento corretto. Cos'è Firefox? È un browser, dunque un programma di navigazione. Poi clicco ancora sul più, questa volta inserisco ancora la terza immagine con un clic e qua aggiungo una definizione insomma un pochettino importante, digito World Wide Web, cioè l'acronimo, insomma il VVV, è in realtà veramente coincidente con Internet, una delle più grandi invenzioni del nostro tempo. Clicco di nuovo sulla mia tendina, scelgo la modalità piccolo, Clicco per esempio questa bella immagine con il globo e la mano, clicco qui accanto, specifico, in lettere dunque World Wide Web e a destra clicco in maniera, diciamo impropria, vado a digitare appunto tra virgolette, di che cosa si tratta? Ragnatela mondiale. Chiudo le virgolette però tra parentesi vado meglio a descrivere Internet. Allora, il docente ha terminato qui, perché clicca su fine e poi guardate, ora vediamo come condividerlo con gli alunni. Per cui, clic sul tasto condividi che vediamo qui con il lucchetto, poi con chi vorresti condividere, ecco vedo scritto i miei studenti o vado sotto su imposta compito. E chi tra voi è già più abituato alla didattica digitale, che ricordo non nasce ora in tempi di pandemia, e ma la didattica digitale esiste veramente da anni, ecco chi di voi è già abituato vedrà alcune somiglianze con Classroom perché noi qui stiamo assegnando al bisogno questa nostra attività come compito. Vado a dare un nome che mi sembri idoneo, in questo caso vado a digitare risultati del quiz su Internet, questo servirà a noi. Poi con un clic su inserisci il nome decido che gli alunni non dovranno partecipare in forma anonima e poi a destra clicco per andare a scegliere la scadenza da questo calendario e clicco ad esempio su lunedì 18 alle 9 di mattina. Poi lascio che vengano mostrate agli alunni le risposte, ma lascio bianca la casella classifica, così per motivi di inclusione scolastica non vado a demotivare nessuno che magari non veda il suo nome ai primi posti. Clicco su avvia e lato docente, l'azione è terminata. Perché io in realtà adesso ho un indirizzo web, questo URL, lo copio con un clic sul pulsante azzurro e questo indirizzo, che è il mio gioco didattico, lo posso trasporre sul registro elettronico, inserire in forma di link, nella bacheca di WeSchool o nello stream di Classroom, eccetera, eccetera. Come notate per Classroom c'è anche un pulsante dedicato qui in basso. Clicco su fatto, guardate faccio ancora un clic su copia per prudenza, clicco su fatto ed ho terminato. Ora simuliamo di essere alunni, cioè facciamolo questo gioco didattico. Allora clicco in alto sui tre pallini, poi scelgo nuova finestra di navigazione in incognito, barra degli indirizzi in alto, clicco con il tasto destro e poi con il tasto sinistro su incolla, ecco qui l'indirizzo del mio gioco. Tasto invio sulla tastiera ed ora siamo alunni. Infatti mi viene chiesto il nome, per cui clicco io sono l'alunno Andrea C. Mi viene chiesto se salvare il nome con un clic sul mio quadratino, un clic su avvia e a questo punto partecipo. Clic su avvia. Un effetto sonoro e un effetto poi visivo, vedete il tempo che scorre, con il tasto sinistro del mouse premuto, assegno queste etichette al loro rispettivo spazio, per cui ad esempio io che cosa faccio? Prendo il mio Mozilla Firefox e lo trascino dentro browser, prendo la mia icona di Google e la trascino dentro motore di ricerca, prendo World Wide Web, lo metto in ragnatela mondiale, clicco su invia risposte. Ecco qui, in questa maniera, la validazione con le tre punte e in aggiunta, come possiamo vedere, cosa ho? Ho il riepilogo del punteggio e del tempo impiegato. L'alunno vede questo. Ora io vado a chiudere con X. Il docente, non è stato tutto il tempo qui, io ritorno su World Wall quando siamo vicini alla scadenza assegnata, poi vado a cliccare sui miei risultati. e ricerco, naturalmente, il nome che ho assegnato prima. Vi ricordate quando abbiamo deciso la personalizzazione? Risultati del quiz su internet, eccolo qua. Questi sono altri esempi, naturalmente, da me preparati. Con un clic ho il riepilogo generale, il numero degli studenti, il punteggio medio, il punteggio più alto e la velocità di esecuzione. Poi sotto, in realtà, ho il risultati per studente, dunque il riepilogo, dove vado a vedere nella mia classe ciascun alunno come si è comportato. Quindi se propongo questa attività in modalità sincrona, è divertente, li faccio partecipare, lascio loro un seme sul quale puoi ritornare in seguito. Se la propongo come modalità sincrona, allora forse ho ancora più il polso della classe perché la risposta è la risposta di getto, e quindi la risposta sulla quale non ho tanto meditato, ma in qualche misura o la so, o effettivamente la so meno, sarà una occasione di nuova spiegazione in futuro. Per cui, come sempre, lascio a voi la prova pratica su strada anche di World Wall. Vi ringrazio perché mi seguite sempre con affetto e stima e un caro saluto dal vostro Andrea Cartotto con l'appuntamento di già al prossimo videocorso didattico. Grazie a tutti.